Ciao a tutti, in questo video esamineremo un articolo del 2019 che offre un'idea molto molto intelligente per capire se il buco nero al centro delle nostre galassie, il buco nero supermassivo Sagittarius Astar ha proprietà di un worm, ossia connette, come alcune teorie o meglio alcune soluzioni dell'equazione di Einstein sembrerebbero far capire punti diversi dello spazio-tempo. In realtà ci sono tantissime obiezioni ma insomma l'idea è molto affascinante, è stata usata ed abusata in più film, libri di fantascienza e così via l'idea appunto è che se uno scrive l'equazione della relatività generale è possibile avere delle soluzioni poi se voglio energia negativa, in materia esotica o comunque molto strambe che possono connettere punti tra loro separati dello spazio-tempo. Visualizzarlo questo è difficile questo è un disegno preso da Wikipedia in cui essenzialmente se lo spazio-tempo tridimensionale quadrimensionale, se ci mettiamo appunto il tempo, è questa pellicola qua il wormhole connette due punti di questa pellicola e quindi ci permetterebbe di viaggiare più veloce della luce tantissime cose. In realtà appunto ci sono varie controbiezioni, non è possibile trasmettere informazioni si viene compressi, tra l'altro se veramente sono i buchi neri entrate e uscite di un wormhole non è che si fa una bella fine ma comunque l'idea è molto molto affascinante e soprattutto questo articolo di cui andiamo a parlare oggi offre un modo almeno per avere alcune possibili dati sperimentali che se non altro escludono alcune di queste ipotesi. Appunto questo è un altro disegno del wormhole in cui appunto una regione dello spazio-tempo è connessa a un'altra con questo tubo qui wormhole sarebbe il buco del verme, il buco del verme che si mangia le pagine del libro che quindi passa da un punto all'altro della storia se volete o comunque sia si muove in maniera non consona a quelle che sono le regole appunto del libro dello spazio-tempo. Ecco l'articolo, l'articolo è stato pubblicato su Fisica Review D nel 2019 osservare un wormhole, cioè come si può fare per osservare se c'è un wormhole. Due soli autori, uno cinese e l'altro statunitense e l'abstract è molto molto chiaro, in realtà dice già tutto. Se un wormhole connette in maniera regolare due punti differenti dello spazio-tempo allora il flusso, il flusso vuol dire i campi gravitazionali, elettrici e così via non possono essere separati da questi due spazi ossia in questi due spazi-tempo, questi due punti non è solo la storia che ci passa ma se io ho una stella o anche una carica elettrica da una parte la gravità si deve propagare attraverso lo spazio-tempo del buco nero attraverso il wormhole e uscire dall'altra parte quindi gli oggetti che si propagano, che si muovono nel vicinato, in prossimità del wormhole da un lato devono sentire l'influenza degli oggetti che si propagano dall'altra parte e viceversa loro fanno tutti i conti, mostriamo questo nel caso di un campo scalare ossia un campo senza vettori il campo elettromagnetico e quelli gravitazionali che sono quelli più comuni e dove è più possibile vedere questo effetto il caso della gravità è quello più interessante in altre parole, se uno studia, questa è l'idea l'orbita delle stelle che vediamo intorno al buco nero al centro della nostra galassia potremmo vedere molto presto se questo buco nero ospita un wormhole attraversabile e qui poi dai numeri che vedremo tra poco dice almeno 6 metri al secondo quadro le accelerazioni e dice guardiamo la stella quella che va più vicino che è S2 ne abbiamo parlato nella serie dei buchi neri qualche episodio fa di cui appunto questo è, se non sbaglio, il decimo episodio allora anche l'introduzione è anche abbastanza semplice hanno attirato un sacco di attenzione sia dal punto di vista accademico che anche perché spiegherebbe tutta una serie di problemi legato all'entanglement di partition nella meccanica quantistica e lui dice qui lo scopo è di vedere se c'è una connessione chiara visibile, sperimentabile tra i wormhole e le osservazioni astrofisiche e qui dipende un po' all'abstract per definizione connette due punti dello spazio-tempo e quindi il flusso si conserva come l'acqua cioè insomma se l'acqua entra nello scarico del lavandino da qualche parte deve uscire e questa è la stessa cosa per il wormhole ossia se ho una regione dove ci sono delle stelle le stelle dall'altra parte devono risentire del campo gravitazionale e questa è la sostanza poi si mettono a fare tutta una serie di conti che però direi che ci risparmiamo e questo è lo schema il tubo ha imbuto essenzialmente è quello che avevamo visto anche prima il buco nero e wormhole ossia la regione che in qualche maniera connette i due punti dello spazio-tempo è questo qui è vero che se uno cade poi viene distrutto tutta una serie di paradosse eccetera eccetera ma è anche vero che se questa regione dello spazio-tempo qui questa regione qui sopra è collegata a questa regione qui sotto se io ho un corpo celeste che orbita questa regione qui la gravità si propaga attraverso il wormhole e anche il buco nero risente la gravità e viceversa il buco nero è molto più grande ma essenzialmente è come se questa stella risentissi della gravità di questa e viceversa infatti è questo che dice collega due punti due copie dello spazio-tempo e la sorgente dello spazio-tempo è il buco nero con questo raggio gravitazionale RG le stelle che orbitano tutte le parti risentono appunto dell'attrazione gravitazionale da entrambe le parti qual è la segnatura? la segnatura appunto dice è chiaro e sappiamo benissimo che Sagittarius Astar ospita un buco nero supermassivo al centro della galassia di 4 milioni di masse solare i numeri più o meno vari c'è anche un articolo molto recente di qualche giorno fa che studia anche quanto sta ruotando il buco nero nella nostra galassia e mostra che in percentuale ruota meno di M87 magari ci facciamo un altro video un'altra volta molto interessante ma è un altro argomento e vabbè il raggio di Schwarzschild dell'oggetto è 84 millesimi di unità astronomiche tutte le stelle però vi ricordate lo vediamo tra pochissimo le stelle ci ruotano intorno senza alcun problema e vediamo quindi che cosa si potrebbe vedere osservando la stella S2 che è quella più vicina grande 14 masse solari ci mette 16 anni a girarci intorno anche perché se ricordate molte di queste quando cadono al peribuco come dicono in tanti essenzialmente hanno una velocità relativistica quindi l'orbita è molto veloce e un'asse semimaggiore di un miliardo di unità astronomiche che per quindi 100 volte il sistema scusate 10 volte il sistema solare e quindi è un numero estremamente ridotto immaginate appunto un buco nero supermassivo di milioni di masse solari al posto del sole e una stella che orbita lì dentro in un oggetto che è microscopico 10 volte il sistema solare l'eccentricità è molto recente ma lo vedremo tra pochissimo e questa dovrebbe risentire dell'eventuale effetto del wormhole e delle eventuali stelle dall'altra parte questo l'abbiamo visto tanto tempo fa in una delle prime puntate sui buchi neri è questo qui al centro del buco nero supermassivo queste sono le stelle osservate che appunto ruotano negli anni 88-99-2001-2002 con orbite ellittiche e fino appunto al 2023 non so fino a dove arriva il video ma insomma quelle più lontane ovviamente si muovono più più lentamente con orbite più lunghe questa qui è una di quelle più interessanti perché appunto si avvicina anche a meno dell'orbita di Giove quindi poche unità astronomiche e appunto quando ci passa qui vicino è molto veloce e molto relativista quindi anche lì si esprimono tutti anche effetti di deviazione dalla relatività generale di Einstein senza trovare assolutamente niente eccola qua S2 o S02 è quella una di quelle più vicine quindi quella in cui si può osservare in maniera più forte l'effetto eventuale della presenza di altre stelle al di là dell'orizzonte degli eventi di questo ipotetico Wormond questa è la stessa cosa queste sono le orbite appunto seguite nel corso degli anni e questa blu scuro la vedete questa qui la piccolina è quella che orbita più vicino al buco vero quest'altra è una di quelle anche con eccentricità più alta che anche questa va molto molto vicino dovrebbe essere la 16 probabilmente e queste sono le conclusioni in realtà appunto l'articolo fa molti conti ma le conclusioni sono abbastanza cristalline lui dice la velocità di S l'accelerazione di S2 con che accelerazione cade nel campo gravitazione del buco nero è stata misurata già solo con due anni di dati con una precisione di 4 di 10 almeno 4 metri al secondo con 20 anni di dati si può scendere di un fattore di 10 fattore 5 a 2 per 10 alla meno 5 metri al secondo quindi è una precisione enorme se pensate che l'accelerazione di gravità è 9,8 metri al secondo quadro prima ho detto metri al secondo metri al secondo quadro ovviamente è un'accelerazione la precisione quindi sarebbe rispetto a 10 sarebbe un centimillesimo dell'accelerazione terrestre questo lo stiamo facendo con una stella che orbita un buco nero a decine di migliaia di anni luce al centro della galassia e si riesce a raggiungere ulteriormente se si riesce a misurare l'incertezza sulla velocità fino a 2 km al secondo fino a un milionesimo di metro al secondo quadro quindi via via che migliora la precisione migliora la la esclusa la zona di esclusione perché ovviamente non si vede niente magari si vedessero deviazioni dall'orbita che ve le riano ma non si vede niente e questo mette un esempio è il solito limite superiore che abbiamo imparato a temere schifare nella ricerca della dark matter ma qui è la stessa cosa ossia se queste tre righe qui sono le tre tipi di precisioni sulla accelerazione della stella qui la stella che orbita il buco nero supermassivo ha al momento la si conosce con una precisione dell'ordine di punto di 10 alla meno 4 quindi 4 per 10 alla meno 4 ed è questa qua se arriviamo a questa retta qui abbiamo una precisione maggiore e se poi arrivassimo qui avremmo una precisione ancora maggiore ma una precisione su che cosa la precisione sulla massa della stella che potrebbe stare al di là del worm appunto se il buco nero stesse connettendo regioni altrimenti sconnesse dallo spazio tempo appunto con questa specie di imbuto e quindi parliamo di masse che vanno dell'ordine di migliaia di masse solari fino a qualche centinaia di masse solari qui siamo vedete nel punto in cui siamo noi siamo a milioni di masse solari o centinaia di migliaia di masse solari che essenzialmente vuol dire l'unica cosa che potrebbe starci dall'altra parte potrebbe essere un altro buco nero perché le stelle sono molto più piccole e sull'asse delle X c'è il raggio del perielio ossia il periasse della stella dall'altra parte dell'ipotetico worm quindi se la stella orbita molto molto vicino al buco nero allora si riesce a vedere delle variazioni sull'accelerazione più precise se è lontano ovviamente la precisione va crescendo anche sopra i milioni di masse solari allora dice guardate si è vero però appunto migliorando la misura della velocità fino a due chilometri al secondo e quindi la precisione sull'accelerazione a un milionesimo di metro secondo quadro si riesce a scendere la centinaia di masse solari non è niente di eccezionale però è almeno un'ipotesi e un modo di fare i calcoli sperimentali per verificare questa ipotesi del worm che appunto è molto affascinante se uno superasse le energie negative e le energie infinite ma è materia strana eccetera eccetera in un futuro remotissimo e se veramente quelle equazioni sono valide e applicabili potrebbe realmente connettere due punti dello spazio-tempo anche se quello non ci arriveremo mai almeno uno può fare queste misure con uno degli oggetti estremari appunto che è il buco nero della nostra galassia tanto più che se ricordate c'era quell'altro articolo di cui avevamo discusso in un video di gennaio-febbraio in cui c'è quest'altra idea geniale che non verificata però è un punto geniale che in realtà l'energia oscura è generata dai buchi neri supermassivi e quindi non si espanderà all'infinito con tutto l'universo ma può essere legata appunto a oggetti finiti in numero e dimensione quindi non far divergere l'accelerazione dell'universo di nuovo questo almeno è un metodo sperimentale per verificare altrimenti teorie altrimenti esotiche nel livello della fantascienza anche se poi ci sono fior di conti di Kip Thorne Wheeler Weill e così via Einstein stesso Einstein Podolsky Rosen su questo argomento qua vedremo se mai si vedranno delle anomalie lo sapremo sicuramente con tutti i botti e i fochi artificiali direi che per questo video ci lasciamo qui e ci rivediamo alla prossima puntata ciao grazie a tutti